2022 hanno un sorribilis per il clima e a risentirne sono stati i nostri ghiacciai, temi messi sotto la lente a Chiesa in Valmalenco nel corso dell'importante incontro dedicato al cambiamento climatico e al turismo sostenibile. Argomenti cruciali analizzati grazie al Be Ice Heritage Progetto Interreg che coinvolge Valmalenco e Valposchiavo. Uno sguardo sul futuro che ci attende è contenuto negli studi sul ghiacciaio Fellaria Palù e sulle grotte dello Shershen. Non è voluto mancare il noto metrologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. Due mesi fa Sogno intervenne all'evento dell'ospice GL. Sarà un'estate torrida e siccitosa, la sua anticipazione, previsione confermata dai fatti. Potremmo dire l'aveva detto. L'avevamo detto a inizio estate quando c'erano già i segnali di una stagione anomala, caldo e siccità, ma veramente quello che poi è successo tra luglio e agosto ha passato ogni attesa. Abbiamo così avuto l'estate più calda e più secca di tutti i tempi, di 220 anni. E questo ha portato a una quantità di nuovi problemi, soprattutto in pianura padana, anche all'agricoltura. Il cuneo salino, l'acqua salata dell'Adriatico che è entrata per 40 chilometri nell'entroterra. La crisi anche da un punto di vista della produzione energetica, il raffreddamento delle centrali. Insomma, purtroppo sono i sintomi del riscaldamento globale con cui dovremo avere a che fare molto di più nelle stagioni future. Un'antipastola. Possibili contromisure, cosa possiamo fare per salvarci? Le contromisure sono due. Una è la mitigazione, cioè diminuire le emissioni, ma questo è un fatto però globale, cioè lo dobbiamo fare tutti, non basta che lo faccia l'Italia. L'altro invece è l'adattamento, ovvero a livello locale, questa volta investire per quelle strategie che ci devono permettere di attutire il colpo. Quindi pensiamo all'acqua, è chiaro che dopo una stagione come questa bisogna lavorare moltissimo per essere più resilienti, cioè per progettare un sistema idrico che non vada in sofferenza quando la stagione è sfavorevole. Coldiretti ha lanciato due settimane fa in Valterina il tema dei bacini di accumulo. È un tema di cui dovremmo parlare, chiaramente bisogna farli bene, bisogna stabilire un piano che sia territoriale e non ognuno fa per sé, perché quando parliamo di acqua e di bacini si deve ragionare sul bacino idrografico. I bacini devono essere progettati come delle vasche da bagno, diciamo così, non come degli sbarramenti sui fiumi.